Il ritmo marcato dal jet si fonde alla perfezione con il pulsare profondo del potente motore dell'auto e spinge l'uomo ad affondare più del necessario il pedale dell'acceleratore. Renato Rossini in arte Howard Ross, ha iniziato la sua carriera non proprio nel mondo del cinema, con i fotoromanzi, con il bodybuilding. Come è arrivato al cinema? Al cinema sono arrivato come stuntman, come controfigura, come saltatore. Come attore sono arrivato, facevo un film che era maciste contro lo sceico e ricordo che il protagonista era Eddie Fiori, un attore americano, la regia era di Domenico Paolella. Eddie Fiori, il protagonista, era andato in America, non so per quale motivo, allora cercavano una controfigura che somigliasse a Eddie Fiori. E quindi il regista Paolella mi vede e dice «Senta, lei vorrebbe fare la controfigura di questo film mio». Io gli dico «Perché no, dottore?» Dice «Sai, c'è un po' scene pericolose, essere legato così con i leoni». Dico «Va bene, sì, sì, faccio tutto». Girammo il film e andò tutto bene. Rimase entusiasta Paolella e mi disse «Senta, Rossini, mi chiamavo Renato Rossini, mi lasci il numero telefonico, io dovrò fare altri lavori». E quindi ho il piacere di lavorare con lei. Dico «La ringrazio, dottore». E io lasciò il numero telefonico e lui mi chiamò per altri film come «Masciste contro i mongoli» e tanti altri. Come è nato Howard Ross? Howard Ross è nato con il mio agente, Giuseppe Perrone, che era uno addetto ai lavori perché erano tutti questi muscoloni americani, da Steve Riese, Gordon Scott, Mark Forrest, eccetera. E mi disse «Senta, Rossini, se vuole essere rappresentato da me, io però dobbiamo cambiare il nome». Dico «Va bene, perché c'è Rossini, fa troppo musicista». Dico «Va bene, dottore». Cioè «Como mi chiamerò?» Cioè «Facciamo Red Ross». Poi Red Ross, perché no, io non male. E girai dei film come Red Ross. Dopodiché ti dissi «Senti, ma io mi piacerebbe cambiare un nome», facendo il protagonista, il proprio protagonista. Dico «Mettiamo, cambiamo un nome». Cioè allora dice «Da Red Ross facciamo Howard Ross». E quindi è nato Howard Ross. Quando si girava un peplum, quali erano i principali rischi che un attore doveva fare, poteva correre in un film del genere, visto che comunque erano dei film che richiedevano una partecipazione molto fisica? Sì, perché intanto bisognava essere allenati fisicamente e la psica anche. I rischi ce n'erano tanti. Durante le prove, per esempio, si facevano un duello con delle dacche così e si facevano dei duelli e qualche volta ci si faceva male. Perché proprio durante le prove poi si faceva male. Perché qualcuno col maestro d'armi si agitava e «Tirmi la quinta» e poi questo e questa. Quindi succediva. Poi facevi i salti, queste cose, anche se c'erano dei materassi che avevi sui materassi durante le prove. Però si finiva la scena e qualche volta partiva un dito, qualche piccola cicatrice, poi anche se sul viso, così. C'erano molte difficoltà, diciamo. C'era molta difficoltà durante le prove. Non era una cosa facile, insomma, ecco. Poi bisognava essere psicologicamente preparati e poi atleticamente anche, perché si trattava di film d'azione, insomma. E quindi necessitava molta preparazione in questo. Un altro genere che lei ha frequentato è il western. Sì. Qual era la differenza fra un peplum e un western a livello di set, a livello di preparazione, anche del proprio personaggio? Io mi ricordo, perché il primo film lo fesci con Pimo Zeglio, i quattro inesorabili, che c'era Adam West e tutto, e mi ricordo che passavo dal film storico-mitologico al film western e non era facile, perché la mentalità italiana è quella che ti... lo spettatore si è abito a vederti nel film western, nel film storico-mitologico, poi non crede nel film, diciamo, un nuovo genere, che era il western. La differenza per me... Io ho amato un po' tutti i film, tutte le partecipazioni o i film che ho fatto da protagonista, li ho tutti un po' amati, mi sono sempre calato bene nel ruolo. E devo dire che tra il film storico-mitologico, in film western, per me, non c'era molta differenza. L'unica differenza era il costume, perché uno lì eri a torso nudo, lì in film western eri vestito, però era la stessa cosa, perché uno poi si cala nel ruolo, quindi ti piace la tua professione e fai, insomma, qualsiasi cosa, ecco, interpreti qualsiasi ruolo. Lavorare con gli americani è splendido, e stiamo proprio tra il giorno e la notte. Io feci un film, un film western, che su quel mio curriculum vitae non c'è, ma era A Man Call It Noon, un uomo chiamato Mezzogiorno, con Peter Collinson, regista, dove io avevo sette otto pose, sette otto giorni di lavoro. Io ero trattato come Yulbrine, c'erano Yulbrine, Richard Renna, ero trattato esattamente come il protagonista. con la roulotte, la sedia, quando era nuvoloso, non si girava, mi accompagnavano subito in un albergo. Lavorare con gli americani è splendido. Un attore che non ha lavorato con gli americani non ha idea che altro tipo di cinema è. È il vero cinema. Cioè, ti senti veramente attore, ti senti Marlon Brando. Per un attore, qual era l'importanza del proprio agente negli anni, in questi anni? L'agente è una figura importantissima. Perché è importantissima? Perché intanto un attore, che è un agente, si è stimato dalla produzione. Non chiamano te direttamente, ma chiamano l'agente. Dice vogliamo Howard Ross per questo film. l'agente va, si fa dare il copione, lo dà all'attore interessato a quel film. L'attore legge la storia, vede il personaggio suo, o protagonista o coprotagonista, dipende. E dice bene, accettiamo, io questo ruolo lo faccio. E l'agente cosa fa? Non fa altro che dire ok, facciamo il film, e ti fa un contratto, e chiede una cifra. Si a me sta bene, accetto. Se non mi sta bene, non accetto. Però poi, quasi sempre ci si mette d'accordo, perché il lavoro è sacrosanto, quindi a volte la produzione va anche un po' aiutata. Io almeno ho sempre lasciato questo segno, ho lasciato sempre un moto carino, la produzione, che mi si ricordano. Mi si ricordano che sono stato sempre un professionista, non ho mai, se c'era di fare due o tre ore in più di lavoro, lo facevo e non chiedevo niente, non chiedevano anche un caffè, niente. Lo facevo proprio per aiutare la produzione, che già fare il produttore oggi, già oggi o allora, erano degli eroi. quindi oggi questo modo di fare non c'è più nel cinema, a parte oggi un po' tutta televisione. Nel 67 lei ha fatto un film con un grande regista di genere come Umberto Lenti, il film era Attentato ai Tre Grandi. Che ricordo ha di questo film e di questo regista? Lenti è un bravissimo regista, ma peccato perché è troppo nervoso, che non era colpo suo se era nervoso, perché la produzione cinematografica diceva guarda, devi finire il film in sette settimane, perché una volta, se tu finisci il film in otto settimane, una settimana in più la paghi tu agli operai, quindi doveva restare le sette settimane e se finiva prima aveva dei pregi, dei riconoscimenti. Quindi arriviamo un giorno a Casablanca a Tentato ai Tre Grandi e dice pronti, pronti, giriamo tu qui, tu lì. Io devo giocare con l'arancia, mi ricordo, questa arancia non veniva mai bene, sulla mano cateva. Ah, io devo fare il film! Ciao, che fai? Mannaggia con questa arancia! Poi stavamo in discesa nel deserto, l'arancia era l'unica che avevamo un paio prima che arrivasse un'altra arancia da fuori dalla produzione che stavano accampati giù e ci si metteva tempo e quindi sta arancia che io dovevo giocare così e scappava. Dico, senti, Lenzi, Umberto, se tu stai calmo l'arancia rimane bene, facciamo la scena, altrimenti dico, non esiste, se mi hai detto adesso dopo cinque minuti ti innervosisci, ma io devo fare il film? Dico, sì, capisco, insomma. E vabbè, questa storia è così, poi finimmo il film è bene, ma insomma, tutti gli altri attori non è che fossero così contenti di Lenzi, proprio perché per il modo in cui lui dirigeva gli attori, così, insomma, in nervosia un po' tutti. Però poi il film è un buon successo, è questo attentato dei tre grandi, dei tre grandi. Nel 70 lei ha fatto un film con un grande maestro, con Mario Bava, il film è La Cinque Bambole per la Luna d'Agosto. Sì. Anche qui, cosa ricorda? Mario Bava, grande, grande Mario Bava, veniva dalla, era come aiuto regista, come, poi lui faceva molto bene questi, maquette, faceva vedere, non so, il castello antico, così, disegnato, così, bravissimo, Mario Bava, gran signore del cinema. In quel film c'era La Fennec, che fu il primo, il suo primo film, di Edwish Fennec. Poi c'era La Roné, altri due teatrici francesi, così, e ricordo che Mario Bava molto signore, quando lui dirigeva molto bene gli attori, tranquillo, si ripeteva la scena, si ripassavano le battute, così, e quando si era pronti, e tutti quanti pronti per girare, si girava, ma con una grande, proprio grande calma, tranquillità, proprio, lui è stato grande, Mario Bava, è stato grande nel cinema, è uno che ha lasciato un segno nel cinema italiano, proprio per la sua signorilità e per la sua bravura, così, non si arrabbiava mai, mai si arrabbiava Mario Bava, era sempre, pronto proprio a chiarire le cose, a parlarne, quindi è un bellissimo ricordo. Un altro regista importante, con cui ha lavorato, era Sergio Grieco. Sergio Grieco, tranquillo, signora, anche Sergio Grieco, grande. Facemmo diversi film, poi con il mio primo film da protagonista, L'uomo che sfida l'organizzazione, mi ricordo in Spagna, e lui diceva, guarda, non ti preoccupare, le scene, quando sei pronto, così, la vediamo insieme, la ripassiamo, così, te la provi, così, signore, molto signore, devo dire, è un gran bel ricordo, Sergio Grieco, sì. Nel 73, ha girato con un altro grande maestro, Fernando Di Leo, nel film Il Boss. Fernando Di Leo è un altro grande del cinema, è uno che non gli doveva insegnare niente, perché sapeva tutto del cinema, lui quando girava una scena già vedeva il montaggio, già sapeva come montare la scena, era uno, mi ricordo, che fumava molto durante le scene, sembrava sempre adirato, così, ma era un, perché lui sentiva proprio la sceneggiatura, la storia, poi lui si scriveva le storie, tutto, tranquillo, girava in un modo stupendo, era un piacere lavorare con Fernando Di Leo, bravo, bravo, grande, grande regista, grande, e lui quando metteva la macchina, già, vedeva già, già aveva, è come se avesse avuto già subito il montaggio del film, i film di Di Leo quando uscivano facevano tutti pienoni, tutti, il cinema era sempre pieno, il locale, e quindi lui era uno che credeva a quello che faceva, però non si pensava mai, che dice ecco, un giorno questi poi, questi film si ricorderanno, si faceva dei bei film, si credeva, ripeto, a quello che si faceva, ma non si pensava un giorno, che potessero diventare dei capolavori, ecco, che ancora oggi, nel terzo millennio, si apprezzano questi film, questi di Leo, o di Mario Bava, e tanti altri registi italiani, e questo mi fa molto piacere, piacere anche mio, perché, l'ho fatta anch'io qualcuno, quindi, sto contento che io sia ricordato, insomma, ecco, di questa intervista che voi mi fate, mi fa molto piacere, perché così è una specie di energia che mi date così per qualche giorno, fa piacere, insomma, ecco. L'anno dopo, lei ha girato, Cinque donne per l'assassino, diretto da un altro grande regista, con un senso dell'azione molto, molto speciale, che era Stelvio Massi, recentemente scomparso, com'è il suo ricordo di Massi? Stelvio Massi bravo anche, anche lui, lui faceva l'aiuto regista, che era poi, mi ricordo, l'aiuto regista di Sergio Grieco, nel film, il sergente Glems, e lui faceva l'aiuto regista a Stelvio Massi, dopo ha provato a fare regista, è riuscito, è andato bene, ha fatto dei bei film, è incastato bene, anche lui era un mestierante, era uno che si sapeva muovere bene con la macchina da presa, grande, anche lui è stato un grande professionista, è un peccato che appunto questi qui, questi registi che non ci siano più, perché oggi potrebbero, potrebbero dare tanto, ancora al cinema italiano, se non altro portare, una grande esperienza, di cinema, che io non voglio fare, tutto il buon fascio, ma i ragazzi, i registi di oggi, fanno delle cose assurde, fanno delle cose brutte, però forse è il momento, che ci vogliono questi, questi film, brutti, non so, che sinceramente, a me non piacciono, però ecco, ripeto, questi registi qui, peccato che non ci siano più, perché potranno portare un contributo stupendo di esperienze, e speriamo insomma che qualcuno esca fuori buono, insomma, bravi registi di questi, o figli, figli d'arte, questi di Fernando Di Leo, o che so, insomma, gente che sono state aiuto regista di Di Leo, o di Sergio Griego, insomma, se non altro hanno un DNA buono, ecco. lei è spaziato fra vari generi, ha girato fra gli altri, anche un giallo molto particolare, è stranamente misconosciuto, la ragazza dal pigiama giallo, di Flavio Mogherini, girato nel 77. Sì, con Flavio Mogherini, anche lui, un bravissimo regista, è girato tra l'Italia e l'Australia, e mi ricordo che era, in quel film, ci fuori bene Michele Placido, noi eravamo due amici nel film, poi c'era Dalila Di Lazzaro, mi ricordo che lui girò molto bene quella scena, era uno che anche lui, che credeva a quello che faceva, è stato un grande nel cinema, e l'unica vostra difficoltà che avevo, mi ricordo, perché Mogherini voleva fare il bruno, il moro e il biondo, quindi mi fece dingere i capelli, di biondo, per fare il contrasto con Placido, mi fece mettere le lenti a contatto, le lenti azzurre, gli occhi azzurri, mamma mia, non avessi mai portato, indostato con le lenti azzurre, che mi sembrava, dopo un'oretta, che avevo gli occhi azzurri, così mi sembrava, di avere la sabbia dentro gli occhi, e dico, Flavio, per favore, fra quanto mi fa girare la scena, io non ne posso più, con queste lenti a contatto, dico, la sera quando me li togli, Renata, aspetta, ci abbia pazienza, perché giravamo questa scena, e passavano ore e ore, io con queste lenti a contatto, la sera ero distrutto, avevo come se avessi avuto, negli occhi, i quintali di sabbia, quindi un ricordo, film bello, tutto, ebbe successo, però, non li farei più, l'occhio biondo, l'occhio celeste, insomma, e poi si, venne fuori bene il contrasto con Placido, però, insomma, era difficile, fu dura, insomma, quel periodo, ecco. Ma se adesso, dopo tanti anni, la chiamassero per fare, che ne so, un pepium, lei accetterebbe? Ma certo, adesso poi fisicamente, sto meglio di prima, nonostante anche, non so, più giovane come prima, ma ho 65 anni, quindi, ancora, ho un bel fisico, lo mantengo bene, quindi, oggi potrei fare, Ercole, Macis, tutto quello che ho fatto, meglio, con l'esperienza, se non altro, insomma, certo, io spero che ritorni, ma, chi lo sa, è difficile, magari, magari. Sono le 7.30 pomeridiane di Olimpito, pomeriggio e estivo, il disco solare, il suo arco discendente, si ora le cime degli alberi annosi, mentre la possente civile, di Melvin Devereux, abbandona la sua cinta esterna, di New Orleans, puntando sull'imbocco, della statale nord, che attraverso 250 miglia, di fettuccia asfaltata, ricondurrà il suo proprietario, fra le mura domestiche, a Sherwood.